Ve la ricordate la vecchia Megane? Bene, scordatevela. Con il nuovo modello siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione, o Renault Luciano, come la chiamano ai vertici del marchio della Lusanga. Un cambiamento epocale, sia in termini estetici che tecnologici, che si fonde su nuova E-Tech Electric. Obiettivo, unire tutta l'esperienza di mobilità sostenibile di Renault in un modello iconico come Megane. Un'auto che nasce su una nuova piattaforma specifica per la mobilità elettrica, quindi non ci meraviglia salire a bordo e trovare tanta abitabilità interna, un vero salotto comodo per quattro adulti con bagagli al seguito. Ed anche fuori non manca di originalità stilistica, dalle maniglie a scomparsa ai parafanghi modellati seguendo la linea dei fari. Piccoli dettagli che però danno una visione generale fluente, dando l'impressione di non lasciare nulla al caso. A bordo siamo catapultati nel futuro con lo scenografico sistema open-air, ovvero una specie di L rovesciata che comprende i due schermi di cockpit e infotainment. Su strada una piacevole scoperta. Con la versione da 218 CV e 60 kW di batteria, prestazioni e autonomia vanno a braccetto. Possiamo coniugare piacere di guida a consumi accettabili, con una dinamica di guida agile e veloce nei cambi di direzione. Nella modalità comfort e sport il peso dello sterzo si fa sentire e favorisce la precisione, mentre impostato in comfort si orienta alle manovre cittadine, risultando molto più leggero. Nonostante la batteria non sia tra le più capianti del mercato, il peso contenuto di questa Megane e l'ottimo coefficiente aerodinamico ci hanno permesso di constatare degli ottimi valori di consumo, ovviamente molto diversi a seconda delle modalità e dello stile di guida utilizzato. Insomma, un giusto compromesso tra piacere di guida e autonomia. Insomma, un giusto promosione, disipunte sagt al UppAR